ciao amici di youtube bentornati in questo nuovo video siamo a pullare per shiori shiori chiori come la vogliamo chiamare nuovo personaggio geo siamo tornati finalmente a inazuma nel mio mondo preferito personaggio sub dps pazzesco per il mio hito che si gioca bene anche con il mio zongli e navia quindi toccava prenderla per forza mi limiterò a prendere il personaggio perché se siete giocatori di genshin sapete nel drip marketing di qualche settimana fa è stata presentata arlecchino personaggio degli airbringer che ovviamente ha suscitato lo scalpore di tutti noi e non vediamo l'ora di prenderla anche se ancora il gameplay in maniera ufficiale non è stato presentato ma sarà a tempo qualche settimana e lo vedremo quindi sicuramente lì ci faremo un bello lin con arma quindi oggi mi limita a prendere il personaggio se lo sculo particolarmente tiro ancora qualcosina per fare un po di pull che comunque un po ne ho però non farò il mio solito personaggio più alma visto che gli ultimi banner armi mi hanno odiata abbiamo il 50 e 50 partiamo da pt 20 e niente auguratemi buona fortuna speriamo vada tutto bene e se tutto va bene per le pull se non c'è a nuvi let ci rivedremo per arlecchino si parte pt 20 di partenza andiamo a pt 30 banner di shiori chidara subito allora chidara mi manca quindi teoricamente lagga se è il lag che ogni tanto mi capita di percepire c'è anche in questo caso lagga quindi se non lagga è qualcuno degli altri però comunque vi ho detto c'è linette c'è cave c'è freminette c'è mica c'è che vrose ci sono adesso un po di quattro stelle e comunque non ho full 6 stellato quindi e poi per quanto riguarda invece gli style gritter non li usiamo gli style gritter proprio perché arriva anche arlecchino si va verso natlan quelli rimangono dove sono non li guarderemo oggi non li guarderemo ok pt 30 andiamo a pt 40 banner di shiori vediamo vediamo io non faccio lo skip per le pull perché ora un po ovviamente sono mi arrivano dalla oioves per la collaborazione ottimo doppio quattro stelle un po grazie ai banner in live però comunque anche io per un tempo farmavo e basta no per me fare multi skip sapendo quanto costa quanti quattro stelle quanto costa in farmo una multi non potrei mai raga cioè mi sembrerebbe veramente di sprecare magari un lavoro di una settimana in un giro di un secondo almeno la multi me la voglio godere sinceramente assolutamente sì bella molto molto bella questa 50 pt 50 quattro stelle vediamo vorrei la multi di prima doppio quattro stelle tra l'altro mi è uscita sarah che è un personaggio che già ho c6 quindi sono state due pull praticamente in questa multi risparminate ha fatto una multi da otto come quelle che ci sono nel banner di noella inizio gioco e quelle due multi start ok bene dori tanto queste sono tutte pull io le vedo e faccio i banner in cui ormai tutti ci sei sono un po tipo un toccasana cioè qualsiasi cosa esca non hai bisogno di per favore esci tu invece quando mettono il quattro stelle nuovo se li addiresci esci esci esca sempre gli altri due e poi ti arrabbi qua non mi pongo il problema ok 60 tan 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 quindi sono proprio rilassata è chilling con la mia borraccina di di cinnamorol dai adesso dai qui gorou è ancora un servisto nel mio account vediamo se si cambia un po' registro prossima singola no però vedi l'arco per gorou ci sta ok vediamo va bene questa era multi delle armi e molti fortunata molto importante perché siamo quasi al soft let's go pt 70 tutto tace il silenzio tutto tace va bene vediamo eccolo l'ho detto della multi prima un gorou ok ce l'abbiamo anche qua almeno sono usciti tutti è un top anche questa multi da hot pull bene così deve essere così deve essere buono buono doppio quattro stelle anche qua tra l'altro vicinissimi multi da hot pull perfetto allora signori quattro singole e poi la multi vediamo cosa ci professerà il destino 71 questa liscia 72 anche perché a me se lagga è per forza lei o kirara non ci sono altre opzioni che fanno laggare quindi 73 se c'è il lag è uno di loro due ultima singola 74 ok ci siamo la multi del 5 stelle è proprio lei dai let's go multi del 5 stelle niente lagga raga non è lei non è lei ti prego di messi a jean almeno vedete perché non mi piace il lag perché io so già che non è lei 76 77 no ve lo dico io 78 era questa 79 80 81 81 no forse ho contato indietro di uno via ve l'ho detto io ormai lo so bella bella c2 tra l'altro la c2 è molto forte io lo so che se non lagga è lei bella 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 sono davanti di uno comunque bella 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 comunque piti 12 liscia quindi non c'è nemmeno kirara qui sta cosa che so che non c'è nemmeno kirara la odio la odio esatto piccole richieste amo di una bambina che è stata buona quest'anno cara odio verso anche quest'anno ho fatto tante live per voi ho fatto tanti contenuti posto tutti i giorni dei tiktok a tema genshin faccio anche star rail cioè guardate mi prendo anche sti personaggi che non piacciono a nessuno faccio anche i cospi dai su un regalo kirara porca miseria kirara dai su dai allora va bene 12 22 raga qui non c'è nemmeno kirara però ci può essere sempre linette ci può essere sempre cave ci può essere sempre frevinette ci può essere sempre che rose mica no grazie e quindi si può compensare si può sempre compensare può sempre andare meglio ora ma esce a 69 e basta marco e basta però in una multi ne ho trovati due di 5 stelle mi è capitato 4-5 volte trovare il doppio 5 stelle però 3 mai 32 ma scusami marco ma non me la puoi augurare prima cioè perché me la puoi augurare la 69 ora me la 39 siamo a fine di questa multi siamo a 32 quando finisco la multi 42 molto bene molto bene molto bene bello bello vediamo 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 ho voglia di vedere giurassi park bene queste multi da 8 mi piacciono sempre tanto grazie grazie non ho pullato nel banner desiderio delle cronache perché quello di monstadt era un po' troppo scam ci farò un pensiero più avanti quando arriverà quello di nazuma 52 mi piacerebbe tanto andare in giappone prima o poi prima o poi servono tanti soldi per andare in giappone tanti 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 però prima o poi ci andrò è nei piani della mia vita cioè una volta e tutta la vita ci vado spero di andarci magari due bello multi le armi anche prima abbiamo trovato qui la multi le armi no se andrò a 52 bisogna andare a 62 quella prima era a 60 allora ok quindi adesso 62 tan tan guarda comunque ora me l'ha gufata lui mi ha detto a 69 se esce la prossima multi Marco mi senti Marco mi senti Marco mi senti ok ok non mi ricordavo è riuscita d'oro ero convinto non ci fosse 5 stelle in questa multi 72 vai adesso faccio due singole e poi abbiamo la nostra shory quindi precise avevo calcolato bene le pull e me ne sono rifatto un sacco con questi 4 stelle meno male sono usciti veramente tanti veramente tanti ok ok bello questo sarà meglio che esca anche uno standard sì anche perché la sua c1 è un po' tipo quella di scenè cioè no in realtà quella di scenè alla fine la uso qui la userei meno quindi ok allora due singole ora esce adesso 73 no perché non ha laggato ora almeno possiamo controllare bene il lag raga 74 no allora adesso possiamo controllare bene fateci caso facciamo il test facciamo il test del lag questo è comprovato sì mi bastano mi bastano precise questo è comprovato ragazzi assistete in diretta al frame lag che vi fa capire che c'è il 5 stelle tecnica studiata direttamente da me guardate eh siamo pronti osservare bene poi a questo punto dovremmo ritagliarlo e rimandarlo al rallentatore per valutare allora guardate ha fatto il mini caricamentino l'avete visto il mini caricamentino mini ha fatto il mini ah subito il mini caricamentino 60 abbiamo detto 6 67 ok 68 ok questa singola la dedico con tutto il cuore al mio amico Marco Faraci direttamente da Catania 69 tieni Marco ti dedico un patto del cecchino perfetto vai ok adesso siamo a PD 69 così che ora mi è contento e si va con Samulti dai 5 stelle non ha laggato quindi non è niente non è e noi qui a dire esce doppio non esce doppio io penso di potermi uccidere ciao Sara tu sei la singola che utilizzerò per far rendere i miei 5 stelle meno male Sara almeno ci sei prendo una singola 6 ci sei pure tu amica mia vabbè anche qui ho 8 singole 8 singole va bene ci sei tutte e due ah io quelli del permanente li ho tutti ci sei Lisa, Kea e Amber quindi anche questa multi sono state due in realtà due singole bene e allora ah porto scioli al 20 avete ragione avete ragione ma perché spendere Star Glitter quando c'è un personaggio da portare al 90 che al 90 ora non so se portiamo però giustamente giustamente ce l'abbiamo dai 5 stelle cosa sei non hai laggato quindi ti ho già cosa sei oggi è la mia giornata io sono contentissima cazzo io sono proprio contenta grazie a tutti Grazie a tutti.